Oggi sperimentemo Gli effetti pratici Ottenibili Utilizzando la verruca infernale alambico trovato nella caverna 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 Grazie a tutti. 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 Come potete vedere gli effetti sono durevoli, quindi esploriamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Uccidere mob sotto l'acqua è estremamente facile così da guadagnare livelli. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.